Siamo in compagnia di Antonio Fagotti, General Manager della Fiorentina Basket, un'altra vittoria oggi, 12 punti classifica, finalmente si può dire c'è stata una svolta nella stagione della Fiorentina? La svolta noi cerchiamo di darla fin dal primo giorno che abbiamo cominciato questa avventura, per il secondo anno consecutivo. Chiaro è che adesso stanno arrivando i risultati. L'impostazione è stata un pochino diversa rispetto agli equilibri che ci eravamo disegnati a inizio anno. Qualcosa non stava girando nel mondo giusto, ora sta girando tutto come deve. Contiamo di mettere a punto le ultime cose a breve e poi questa squadra continuerà con la stessa cattiveria e la determinazione che ha messo oggi in campo. Tra le ultime cose da mettere a posto immagino ci sia anche la questione del nuovo coach che ancora non è potuto scendere in panchina. Sì, Andrea Nicolai non in panchina è una situazione che andrà a sistemarsi a breve, come hai detto tu. Chiaro è che il vincere e il continuare a inanellare prestazioni del genere ci dà un attimino di respiro per, come ha detto il Presidente, riuscire a fare la nostra strategia per arrivare alla soluzione a 360 gradi di un problema che andava affrontato solo ed esclusivamente in questo modo. Prossima settimana, derby Fiorentino in casa del Pino Dragons che due giorni fa ha battuto Piombino convincendo. Quali sono le aspettative? Io penso che il Pino sia davvero una squadra, soprattutto in casa, molto ostica da affrontare. Secondo me, e non lo dico per scaramanzia, sono loro i favoriti. Hanno ora trovato anche loro i giusti equilibri e hanno una determinazione e una cattiveria che gli invidio molto e per noi è un punto di arrivo l'appartenenza a quella maia. Quindi faccio a loro i complimenti. Non andremo per cedere le armi perché non è nel nostro DNA quello di andare già e partire sconfitti. Però sarà sicuramente una bella partita, soprattutto mi auspico per Firenze perché da una parte e dall'altra c'è una giusta mentalità per affrontare nel modo giusto questo tipo di partita.